se lo capire dov'è no 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 c'è tutto a sinistra no 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 corre corre scivola bravo scivola scivola ok inserisci di vai verso sinistra dietro questo albero mettete qua la tua destra è meno sicuro non troppo destra e così va va a sinistra e lì deve l'hai detto è lo giocata lato occhio la 6 però che ti fa danno che c'è anche c'è chi che non è lato di 40 secondi si chiude tutta tipo fortnet all'inizio quindi se lui al centro vince lui no faccio con il KN non ti vede oh sinistra sinistra l'hai visto oh c'è questo i giacchianati come va bella bella grande c'è la chi è come sicuro o no non ho messo bella questa era brava solo la morte per definire la fine della guerra wow prima vittoria al mondo vabbè sì vabbè vabbè prima vittoria al mondo vittoria alla prossima che mi sta ingirando da l'inizio vabbè me sta ingirando da l'inizio c'erano